La corsa dell'euro, arrivato fino a 1,960 dollari sulle maggiori chance di una grande coalizione in Germania, ha penalizzato per tutta la seduta i listini azionari europei che, dopo una settimana di generale recupero, hanno quasi tutti segnato una correzione. Piazza Affari ha chiuso vicino ai minimi di giornata con una flessione dell'1,07% nelle FTS e MIB mentre Francoforte e Parigi hanno ceduto mezzo punto percentuale. In calo anche Londra. Le performance più pesanti nel paniere dei BIG di Milano sono state quelle di B per 3,3% e di Banco BIPM 2,8% ma a pesare sull'indice sono stati anche i petroliferi 2,4% Tenaris, 2,2% Saipem, 1% Eni, visto il dietro fronte del greggio a tre giorni dal vertice OPEC di Vienna, e le quotazioni delle societ più esposte verso gli Stati Uniti come Buzzi 2,2%, CNH 1,9%, SENT 1,9%. In pausa Telecom Italia 1,9% e Mediaset 1,6% dopo che il CFO Giordani ha raffreddato la speculazione su accordi imminenti con vivendi, in altalena Fiat Chrysler 0,9% In chiusura spinta questa mattina dai progetti di scorporo di Magneti Marelli e poi frenata sia dal fattore dollaro sia dalle indiscrezioni della stampa francese sull'inchiesta di Selgate in Francia. Scopri D.P. Intanto a Wall Street si apre piatta una settimana chiave per il destino della riforma fiscale dell'amministrazione Trump sottoposta al voto del Senato USA mentre domani si apriranno le audizioni al Senato per la conferma di Jerome Powell come prossimo presidente della Federal Reserve FCA sull'ottovolante per ipotesi spin-off e rischio multa in Francia seduta sull'ottovolante per FCA. In mattinata il titolo scattato sulla scia delle nuove indiscrezioni riportate sabato dal sole 24 ore in merito allo spin-off e della componentistica. Il progetto, G confermato dallo stesso A.D. Sergio Marchionne, dovrebbe vedere la luce nel primo semestre del 2018. Secondo quanto riportato dal sole, FCA non ha ancora deciso se l'operazione riguarder solamente Magneti Marelli o anche Comau mentre l'esito dovrebbe essere il collocamento in borsa del 50% della nuova Entit mentre il restante 50% sarebbe redistribuito direttamente agli azionisti dell'ingotto. Il quotidiano parla di una valutazione compresa tra i 4 e i 6 miliardi che contribuirebbe all'azzeramento del debito FCA alla fine del 2018. Tornare a parlare del deal alimenta l'appile speculativo ma a livello quantitativo avrebbe effetto solamente in caso di valutazione intorno all'estremo superiore del range ipotizzato commentano gli analisti di Equita, che notano inoltre che se l'operazione prender corpo come ipotizzato dal sole Exor riceverebbe circa il 14,6% della nuova Entit pari al 35% del nave che quindi anche ipotizzando il voto doppio per gli azionisti di lungo termine la nuova Entit sarebbe scalabile Le quotazioni hanno poi tuttavia subito una brusca frenata in sci al rischio di selgate in Francia Secondo le indicazioni riportate da Le Monde che cita il procedimento di infrazione aperto dalla Direzione Generale della Concorrenza Consumo e repressione delle frodi di GCCRF trasmesso nel marzo scorso all'autorite giudiziaria FCA rischia una sanzione da 9,62 miliardi e quindi superiore anche ai 5 miliardi che potrebbero essere combinati al gruppo francese PSA Peugeot e Citroen La cifra figura nero su bianco sul verbale d'infrazione che sintetizza i fatti contestati a FCA scrive Le Monde Da parte sua, FCA France sottolinea che FCA non stata accusata di alcun reato in questa vicenda e ribadisce che sebbene non informata dei fatti riportati sta collaborando con l'autorite giudiziaria francese FCA France convinta che le accuse riportate dalla stampa siano prive di fondamento e deplora il fatto che informazioni relative alle indagini siano rese di dominio pubblico ancora prima che FCA abbia avuto l'opportunità di accedere ai documenti FCA Quindi si riserva tutte le azioni appropriate per proteggere i propri diritti nel caso e si dice fiduciosa che la questione sarà chiarita a tempo debito Vendite su Mediaset Si raffredda Speculazione su Vivendi Oggi sono scattati i realizzi su Mediaset dopo che venerd' le azioni avevano guadagnato oltre il 4% sulla scia dell'attesa per un accordo commerciale sui contenuti televisivi con la Joint Venture Team Canal Plus e grazie alle nuove voci di pace in arrivo con i francesi di Vivendi Dallo scorso 10 novembre il titolo ha guadagnato il 12,5% E proprio il raffreddarsi della speculazione su questo secondo punto avrebbe dato il via alle vendite in borsa visto che proprio venerd' lo stesso CFO di Mediaset Marco Giordani ha lasciando intendere che un accordo con Vivendi non appare ancora imminente Le parole di Giordani, che ha ammesso che il CDA di Mediaset non ha ancora ricevuto alcuna proposta dai francesi sembrano ancora una volta raffreddare le indiscrezioni su un imminente accordo con Vivendi confermano gli analisti di una sim milanese Ferragamo e Terna a galla sulle FTS e Mib Diritti Carigia Picco pochi titoli rimasti a galla sulle FTS e Mib Solo Terna 0,7% e Salvatore Ferragamo 0,68% hanno viaggiato contro tendenza mentre Atlantia e Ricordati sono stati tra i pochi a chiudere in parit Fuori dal gruppo delle 40 big del listino milanese caduta di un altro 7% a Staldi che a Met dicembre sottopora gli azionisti l'operazione di aumento di capitale per massimi 35,7 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione ai soci seduta pesante per i titoli carige nella seconda settimana dell'aumento di capitale i diritti di opzione per poter partecipare all'aumento che sono negoziabili fino al 30 novembre sono caduti del 61% a 0,0148 euro mentre le azioni sono scese del 2,83% dall'inizio dell'aumento i diritti hanno perso l88% le azioni hanno lasciato sul terreno il 15% circa Quanto agli altri indici, Parigi ha terminato le contrattazioni con un calo dello 0,56% mentre Francoforte ha ceduto lo 0,43% nel DAX 30 il FTSE 100 di Londra è arretrato dello 0,25% guidato dall'1,8% di GlaxoSmithKline un rimbalzo per il gruppo farmaceutico tornato in borsa di recente e minimi da due anni legato alla raccomandazione positiva emessa da UBS by acquisti in tutta Europa sui titoli del settore aereo oltre a Lufthansa, tra i migliori a Francoforte hanno guadagnato Easy è 1,8% e IAG 1,3% Vola Time a Wall Street Dopo l'accordo con Meredith a Wall Street Viaggia a Vele Spiegate il titolo di Time Inc A spingere le azioni L'accordo raggiunto con la conglomerata dei media Meredith che rileva l'editore new yorkese che pubblica il magazine omonimo e altri periodici come Fortune People e Sports Illustrated per 2,8 miliardi debito incluso Come si legge in una nota Meredith che controlla Better Homes Gardens e All Recipes pager 1,85 miliardi di dollari in contanti ovvero 18,50 dollari per azione cifra che supera del 46% il prezzo di chiusura del 15 novembre prima che iniziassero a circolare indiscrezioni sull'accordo euro ai massimi da due mesi spread con Bunde chiude a 144 punti sul fronte dei cambi l'euro-dollaro si attesta a 1,922 ai massimi da circa due mesi sul mercato valutario anche lo yen giapponese stato uno dei protagonisti della giornata la valuta nipponica ha recuperato lo 0,8% nei confronti dell'euro a 132,14 yen per un euro e oltre mezzo punto percentuale nei confronti del dollaro a 111,01 yen per un dollaro quest'ultimo valore è il minimo da meta settembre il petrolio WT gennaio ha corretto anche sotto quota 58 dollari al barile mentre il Brenta a Londra tornato in area 63,5 dollari al barile titoli di stato tutti in progresso sul secondario telematico con rendimenti flettenti i decennali italiani scambiati sul mercato a MTS chiudono pressoché invariati rispetto all'avvio anche se il miglioramento dei corsi dei Bund consolidato nel corso della giornata ha portato nel finale ad una marginale riapertura dello spread il differenziale di rendimento tra il decennale italiano benchmark is in it 0005274805 e il pari scadenza tedesco si attesta costa 144 punti base dai 143 punti dell'apertura 149 finale di venerd il rendimento dei decennali italiani si conferma in calo all'1,79% stesso livello dell'avvio 1,86% alla fine della scorsa settimana i bonus spagnoli con un rendimento dell'1,48% hanno un differenziale con i Bund di 113 punti il sole 24 ore radio coro plus diritti d'autore riproduzione riservata 30 21 21 25 25 28 29 34 36 36